Mirko Mori, giovane 2002 dell'Energy Pisa Beach Soccer. Mirko, oggi debutto in Euro Winners Cup, alla prima gara, ecco, al debutto stagionale per l'Energy Pisa in questa competizione. Innanzitutto, raccontaci la tua gara, come l'hai vissuta? No, diciamo che è stata un'esperienza particolare, aspettavo questo esordio già dall'anno scorso. Per me è un piacere far parte di questa squadra e partecipare a una competizione così importante, aver debutato anche con un gol, che è il mio primo gol in prima squadra. Appunto, debutto con gol, dopo di fatto un minuto e mezzo di gioco, immagino una grande soddisfazione e raccontaci l'emozione. No, sicuramente è stato un gol importante perché ha messo subito la partita dalla nostra parte. Cioè, comunque, sono contento di aver fatto partire bene la squadra e di aver contribuito comunque sia alla vittoria dei tre punti. Mirko, dall'Under 20 in Nerazzurra alla prima squadra, la tua seconda stagione consecutiva in Nerazzurro. Ecco, rispetto al percorso che hai compiuto e che stai ancora compiendo, che significato, che valore ha questa giornata per te? No, sicuramente dovrà essere anche un esempio per quelli magari dell'Under 20 che vogliono arrivare a disputare magari un campionato con la prima squadra e un campionato così importante come l'Euro Winners. Spero di essere un esempio per i ragazzi dell'Under 20 e che qualcuno arrivi anche a fare questo percorso, anche con risultati più importanti. Un'ultima battuta in vista dei prossimi impegni. Qual è l'augurio per te a livello personale e collettivo? No, sicuramente a livello personale trovare a fare il massimo e a livello collettivo speriamo al massimo risultato, quindi non c'è niente da aggiungere.